Sono particolarmente onorato e felice di avere con noi in collegamento il Presidente Guido D'Amico, Presidente di Confimprese Italia, la Confederazione delle Piccole, Medie e Micro Imprese, che proprio nei giorni scorsi ha riunito i suoi delegati a Fiuggi per la sua venticinquesima Assemblea Nazionale, un successo strepitoso, e ho avuto il piacere appunto di partecipare ai lavori e vorrei che il Presidente D'Amico in questa occasione condividesse con noi le sue riflessioni su come il PNRR può tradursi in uno strumento di reale supporto per il tessuto produttivo italiano che, ricordiamolo, è composto per oltre il 90% da imprese di piccola e media dimensione. Ci siamo detti con tanti amministratori delegati della Task Force CEO for Life diverse volte, parlando tra di noi che sì, va bene, tanti CEO, tante grandi e grandissime aziende, però attenzione, non dobbiamo, a proposito di inclusione, tenere fuori e dimenticarci delle micro, piccole e medie aziende, che sono poi il tessuto principale del nostro Paese, una ricchezza straordinaria, per questo sono onorato di avere nella nostra Task Force il Presidente D'Amico a cui do la parola. Presidente ci sente, è con noi? Assolutamente sì, buongiorno, buongiorno, buon lavoro e complimenti per l'iniziativa. Grazie Presidente, a lei la parola. Ma io vorrei prima di tutto fare una fotografia di quello che vuol dire essere micro imprese in Italia. In Italia operano 4 milioni e 100 mila micro imprese, su un totale di circa 4 milioni e 400 mila imprese attive. Oltre il 96% delle imprese italiane sono micro, ossia aziende con meno di 10 dipendenti e con un fatturato globale inferiore a 2 milioni di euro. Le micro imprese, anche dette multinazionali da scabbili, generano circa 16 milioni e 100 mila occupati, di cui 11 milioni sono quelle con meno di 10 dipendenti, di 5 dipendenti addirittura. La dimensione media è di 3,7 addetti ad azienda. Sono particolarmente presenti nel campo dei servizi e un'altra cosa molto importante. Sono aziende prevalentemente per il 62% a carattere familiare. Le micro imprese con un solo dipendente sono oltre 2 milioni e 400 mila. Il dato peraltro è uguale, quasi uguale in Europa, dove le micro aziende sono il 93,2% e costituiscono il 39% della impresa privata anche in Europa. Questo per capire l'importanza delle micro imprese, cioè il fatto che le micro imprese siano veramente la spina dorsale dell'economia italiana. Come impatta il PNRR sull'economia delle micro imprese? Ci sono 195 miliardi dal PNRR. Serve però per quanto riguarda le micro imprese una spesa di qualità, altrimenti il rischio è che le future generazioni nasceranno solo ulteriori debiti. Noi sappiamo che la ripresa dell'economia italiana è fortissima. Siamo a una crescita del 6%, si prevede il 5% il prossimo anno. Il piano di ripresa e di resilienza si propone rinnalzare il tasso di crescita del prodotto potenziale della nostra economia dallo 0,6 all'1,4. Il problema è che dobbiamo immaginare come far canare questa enorme massa di denaro che arriverà anche direttamente sulle micro, piccole e medie imprese. In queste iniziative come la vostra la possibilità di dare anche un palcoscenico a queste imprese che spesso non lo hanno proprio per le loro dimensioni è veramente un punto fondamentale. Io mi auguro che nel gestire questi fondi del PNRR si faccia sempre più, lo dicevamo a rifugi, sempre più concertazione, sempre più condivisione, sempre più sentirsi un tutt'uno rispetto a uno strumento che può diventare veramente decisivo per il rilancio della nostra economia e di alcuni settori, ne chiamo uno per casa, ma è tra i più colpiti quello del turismo che ha assolutamente bisogno di essere rilanciato perché ha sofferto troppo per questa pandemia. Grazie Presidente, veramente un appello che ci sentiamo di cogliere, quindi conti su di noi e speriamo, le chiedo, possiamo contare anche su di voi, unire le nostre strade, avere lei e tutte le vostre aziende nella nostra task force. Assolutamente sì, siamo presenti, lo saremo perché l'iniziativa è di quelle molto molto meritorie. Grazie Presidente, a prestissimo e buon lavoro. Un applauso al Presidente D'Amico.